che cosa è successo, ora vedremo, ecco lì partiti in vantaggio Guizzo Vincente con vicino Laguna Drive passa Laguna Drive davanti a Guizzo Vincente Trafful, Jack Lantern e Wonderful Wind dopo 200 metri di corsa si assesta al comando Laguna Drive davanti a Guizzo Vincente, Wonderful Wind, Jack Lantern e Trafful all'inizio della curva prosegue in leggero vantaggio Laguna Drive davanti a Wonderful Wind, Guizzo Vincente, Jack Lantern e Trafful poco prima dell'ingresso di lettura, sempre in vantaggio Laguna Drive davanti a Wonderful Wind, Guizzo Vincente, Jack Lantern i cavalli entrano in dirittura con la Laguna Drive in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Wonderful Wind, perline interne Guizzo Vincente seguono Trafful, Jack Lantern in vantaggio Laguna Drive davanti a Guizzo Vincente Wonderful Wind, Trafful, Jack Lantern e sempre in vantaggio Laguna Drive attaccato all'esterno da Guizzo Vincente seguono Trafful e Wonderful Wind in vantaggio Laguna Drive davanti a Guizzo Vincente e Trafful Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti